Siamo con Stacchini del Leeds, purtroppo è arrivata una sconfitta per 5 a 1, che partita è stata dal campo? Sì, beh, diciamo che è stata netta la differenza generazionale proprio. Noi sui 40 un po' vecchietti, dopo una ventina d'anni, insomma, abbiamo sentito atleticamente la differenza. Poi per il resto bravi loro, un paio veramente buoni, veramente, con un gran tiro, insomma, anche i bei gol. E niente, ci abbiamo provato un pochino dell'esperienza, ma insomma, la lunga poi si vede la differenza di preparazione anche atletica. Complimenti comunque per la prestazione e in bocca al lupo per le prossime.